E' stato identificato e denunciato dalla polizia uno dei minorenni che negli ultimi mesi seminano il terrore tra i loro coetanei nel centro di Brindisi, spesso aggredendoli senza motivo. Il ragazzino che il 28 maggio scorso picchiò due quindicenni è stato individuato dagli investigatori dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura e denunciato alla Procura per i minori di Lecce per il reato di lesioni personali. Oltre al procedimento penale, il questore di Brindisi a Nino Gargano ha emesso nei suoi confronti il cosiddetto Daspo Willy per la durata di un anno che impone al minorenne il divieto di accesso e di stazionamento nei luoghi e nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi quali bar, pub, ristoranti, pizzerie, osterie, fast food, oltre che di esercizi di prossimità nella zona del centro compresa tra Piazza Vittoria e via Pozzo Traiano nelle ore serali e notturne. E' stata così adottata per la prima volta in provincia di Brindisi la misura contro la movida violenta che prende il nome da Willy Duarte, il giovane ucciso a Colleferron nel 2020. Nell'aggressione avvenuta il 28 maggio scorso, solo una delle tante verificatesi nel centro della città negli ultimi mesi, due quindicenni furono picchiati a sangue per futili motivi. L'individuazione del presunto responsabile è avvenuta attraverso la visione dei filmati registrati dalle telecamere a circuito chiuso della zona. Presto anche altri ragazzini violenti potranno essere individuati nello stesso modo.